Ormai da 30 anni insegno religione cattolica nella scuola elementare. Fare sindacato è una tradizione di famiglia, mio padre ha fatto il sindacalista CISL a Little Cedar per 35 anni. Conciliare il lavoro con la gestione di una famiglia numerosa, sicuramente c'è tanto lavoro da fare. Noi abbiamo il dovere di essere sempre sinceri, di dire le cose come sono. Ci troviamo di fronte a ragazzi disorientati che se ben guidati invece trovano una loro strada. Inizialmente quando ho accettato questo incarico ero molto ansiosa, preoccupata. La mia mansione consiste nel accogliere i ragazzi, aiutare i docenti, collaborare con la segreteria e naturalmente pulire la scuola. Sono due passi da qui. La scuola che ho frequentato come studente prima e adesso ci lavoro come insegnante. La scuola che ho accettato con la scuola che ho accettato con la scuola.